Da invasione a necessità, Fontana. Ma a parte il fatto che dovremmo tener conto dei tassi di disoccupazione in Italia, quindi già quello fa capire che è difficile assorbire un'immigrazione perché nel momento in cui una persona non può venire a lavorare regolarmente sappiamo dove va a finire, va a finire in schiavitù con il caporalato oppure va a finire nella criminalità organizzata, spesso e volentieri. Ma oltre a questo mi piacerebbe chiedere alla signora Bonino quali politiche ha fatto nella sua storia politica a favore della famiglia e della natalità. Corretto. Perché, voglio dire, lei adesso ci viene a dire che servono gli immigrati, ma perché gli italiani non fanno più figli? C'è stato anche un disegno culturale da parte di alcune forze politiche che non amavano evidentemente la famiglia e i figli italiani. E non a caso infatti noi fanno entrare 100.000 persone dall'estero e vengono tra l'altro rifugiati, sappiamo benissimo, quanti soldi vengono dati. L'ultimo anno, finanziario dell'ultimo anno, 4 miliardi per la questione di immigrazione, 600 milioni di euro per i figli, per i figli degli italiani. È una politica, è una scelta. È una scelta.